oggi andremo a vedere quali sono le principali differenze fra queste due macchine la frog e la baby frog questa è una macchina che ha più di dieci anni vengono prodotte tutte e due dalla dds l'altra invece è una novità che è presente sul mercato da un paio di anni io le ho utilizzate entrambe per molto molto tempo questa è la mia prima macchina l'altra è una macchina che usiamo qua in negozio per fare i caffè per i dipendenti e quindi vi andrò un po ad elencare quali sono le principali differenze innanzitutto tasto di accensione partiamo l'accensione a un unico tasto di accensione macchina si accende il led sotto è fisso quando la macchina è pronta il led si spegne differenza da due diciamo tassi di accensione il primo generale dietro la macchina lampeggia quando smetti di lampeggiare è pronta pulsante per l'erogazione la macchina dopo 30 minuti di inutilizzo vai stand by stand by che comunque può essere disattivato tramite una procedura però consiglio vivamente di tenerlo attivo per non consumare eccessivamente energia elettrica durante la giornata se poi si utilizza in una maniera blanda a casa a pranzo a cena o a colazione consiglio di tenere lo stand by attivo perché la macchina consuma di meno cosa che non ha la frog e quindi se la facciamo accesa continua accendere e spegnere la resistenza tutta la giornata e devo dire che a fine giornata se si lascia sempre accesa quei 500 watt totali e li consuma parliamo poi del serbatoio qua ci entra una bottiglia d'acqua non servatoio fisico ma la bottiglia direttamente nel vano fino a due litri mentre per quanto riguarda la baby frog abbiamo un litro e mezzo di baschetta di acqua oppure si può inserire anche una bottiglia da mezzo litro consiglio vivamente se si utilizza la macchina poi caffè di utilizzare questa soluzione con la bottiglietta perché non sporcate il il vano porta acqua comunque con l'acqua o il calcare che si crea adoperando l'acqua e in più la bottiglietta può essere tolta sciacquata pulita rimessa con una bottiglietta mezzo litro ci si fanno circa 20 30 caffè quindi non una soluzione che noi adottiamo che all'inizio mi sembrava inutile invece risultata molto comoda seconda e terza differenza è la pulizia del vano porta scialda qui abbiamo una vite si asporta che si rimuove il vano porta scialda per pulirlo mentre per quanto riguarda la baby frog abbiamo un vano porta scialda finalmente estraibile cosa che non aveva la di rima che invece è stato oramai si estrae il vano porta scialda questo è un po sporco perché la macchina diciamo che sono state messe a paragone così com'erano come lo utilizziamo e porto scialda estraibile quindi anche qui per quanto riguarda la pulizia piccola differenza ma assolutamente non dirigevo a vantaggio di una o dell'altra macchina per quanto riguarda la leva premi scialda qui adesso abbiamo una leva diciamo un po più dura inizialmente per quanto riguarda la frog che abbiamo una leva la quale dobbiamo fare più forza qui invece abbiamo un compensatore idraulico che basta un dito per chiudere e comunque pressare la scialda vano per lo scarico dell'acqua decisamente a vantaggio della frog quindi è un piano porta acqua sporca diciamo leggermente più grande un'altra differenza evidente le dimensioni sicuramente l'altezza gioca il suo ruolo più importante mentre la profondità e la larghezza molto meno di solito se la dobbiamo inserire sotto a un pensile in cucina l'altezza è quella che ci permette sicuramente di inserirla sotto o meno quindi per quanto riguarda la compattezza della macchina vince baby frog giustamente per le dimensioni l'estrazione parliamo di estrazione queste sono macchine che vanno a cialde quindi cialde compostabili o comunque cialde di carta e per quanto riguarda la frog c'è un piccolo difetto che si porta dietro comunque da sempre che non può essere risolto che è la parte della vite premi cialda qui abbiamo un sistema con la vite premi cialda la quale ha due forellini laterali per l'estrazione del caffè cosa succede se noi ci scordiamo la scialda inserita una volta erogato il caffè la macchina comunque rimane accesa perché ci scordiamo con questo di spegnere queste sono è un difetto ma è una disattenzione non togliere comunque subito la cialda perché se si effettua la rimozione della cialda il problema non esiste se in viceversa si lascia la cialda inserita magari anche la macchina accesa cosa succede che la cialda si appiccica al alla parte superiore del premi cialda e in questo caso nel tempo farà ostruire questi due buchini per l'uscita del caffè e quindi la macchina andrà in blocco e si dovrà procedere con delle modifiche apposta per disostruire questi buchini inoltre è sempre difficile staccarla perché quando si è attaccata la cialda che si è saldata anche con la macchina spenta andarla a rimozione spesso crea la rottura della cialda quindi il caffè che vada per tutto è un problema che nella baby frog è stato quasi del tutto risolto perché oltre avendo un compensatore idraulico che non permette comunque che la cialda rimanga attaccata e un diffusore diverso in plastica che permette che la cialda comunque non si attacchi il fatto che vai stand by quindi non rimane lasciata a scaldarsi nel tempo fa sì che questo problema è stato bypassato alla grande per quanto riguarda l'erogazione andremo a vedere adesso anche l'erogazione così faremo una comparativa sul caffè perché in sostanza quello che ci interessa è vedere qual è la differenza tra i due tipi di sistema di erogazione se assaggiamo i caffè insieme non noteremo sicuramente tantissima differenza l'unica differenza la fa che la macchina quando è calda sicuramente fa un caffè migliore adesso l'abbiamo accese già da circa un quarto d'ora quindi le macchine sono calde più o meno la stessa maniera stiamo mandando una miscela a blu erogazione leggermente inizialmente più lenta sulla baby frog che qui può bastare facciamo diciamo la stessa altezza di erogazione è leggermente sicuramente più silenziosa la baby frog e adesso lasciamo lasciarla inserita giusto così vi faccio vedere il problema il caffè è venuto più o meno la stessa maniera la stessa metodologia di schiuma leggermente appena un pochino più chiaro sulla frog adesso l'assaggio momento iniziale e viene leggermente appena un pelino più caldino sulla baby frog ma parliamo di sicuramente una cosa di riscaldamento perché questa macchina sicuramente ha bisogno di un riscaldamento più incisivo ha un corpo macchina più grande e comunque la temperatura viene gestita da un termostato meccanico mentre la temperatura in questa macchina gestita da un termostato da da una scheda elettrica quindi è sempre controllata la temperatura da questa scheda logica mentre qua diciamo che il termostato quando avverte che la sta scendendo di calore la resistenza all'aria attiva è un vantaggio uno svantaggio questo da valutare insomma perché attualmente le schede di questa macchina non sono state mai sostituite o ci hanno avuto mai problemi è stata settata in una maniera secondo me eccellente e quindi per quanto riguarda estrazione il risultato del caffè in tazza io li do sostanzialmente alla pari adesso vi faccio vedere di rimuovere come si rimuove la cialda qua si tira su infatti vedete la cialda rimane rimane a terra qua facilmente la cialda ecco vedete già si è attaccata solamente dopo 10-20 secondi che l'abbiamo lasciata inserita in questo caso se è da tanto tempo che la cialda è rimasta inserita facciamo scorrere un giro d'acqua per staccarla onde evitare di strapparla dato che sono circa 10-20 secondi viene via automaticamente senza tanti problemi quindi quale scegliere fondamentalmente le macchine sono tutte e due valide il loro costo è lo stesso possono variare 300 120 130 euro in base a dove le acquistate volete usare una macchina casalinga sicuramente la baby frog è adattissima sia come dimensioni e sia come risultato di caffè volete una macchina d'ufficio che fa tanti caffè al giorno sicuramente la frog vi darà più soddisfazioni anche perché la macchina che se rimane accesa tutto il giorno si scalda bene fa un caffè proprio eccellente adesso l'abbiamo testata un po a freddo e quindi il caffè appena appena leggermente meno caldo ma il risultato è stato lo stesso quindi se dovete fare una scelta io a mio avviso la baby frog oggi è la macchina più adatta per l'uso quotidiano e casalingo oltretutto perché scegliere una macchina a cialde sicuramente per l'ecologia queste sono cialde compostabili vanno nell'umido tutte le altre cialde in plastica sono cialde che creano solamente rifiuti indifferenziati normalmente una macchina a cialde è una macchina italiana e quindi è un prodotto che oltre a essere riparabile come vedete sotto nel mio canale ci sono diversi video su come riparare le macchine queste macchine quando hanno un problema i pezzi si trovano sono macchine che non danno diciamo problemi se vengono utilizzate e gestite in una maniera da fare sempre decalcificazione o comunque trattarle bene dico io sempre non si fa un caffè due caffè mille caffè senza nemmeno mai pulire il vano porta cialda o comunque dagli un minimo di pulizia e quindi mi sento di prima di tutto consigliare le macchine a cialde anche per veramente una spesa più economica per quanto riguarda le cialde le cialde le troviamo dai 12 13 centesimi a salire mentre le cialde in plastica in modo mio nel caffè o con espresso già sono cialde che partono sopra ai 20 centesimi quindi è vero che costa leggermente più una macchina a cialde ma ce la ripariamo nell'arco di uno due anni in base a caffè che facciamo sul costo delle cialde oltre alla sua riparabilità perché io ho clienti che l'hanno comprata da dieci anni magari qualcuno ha dato l'assistenza ha cambiato una pompa ma spendendo quei 20 25 30 euro poi si possono manutentare anche da soli perché sono molto semplici da manutentare quindi se uno compra cambiare una pompa è molto semplice si compra si cambia e si risolvono i problemi di video per quanto riguarda le riparabilità non abbiamo fatti tantissimi quindi qualsiasi cosa è riparabile e consiglio vivamente di acquistare comunque una macchina a cialde noi abbiamo scelto la dps perché ormai conosco in qualsiasi parte o pezzo di queste macchine e qualsiasi cosa o dubbio che avete me lo potete chiedere sotto al video e io vi auguro una buona serata e a un prossimo video grazie